Poteva andare peggio ma fortunatamente se la caverà solo con dieci giorni di prognosi. Un sulmonese ieri è stato investito in tarda serata sul Ponte Vella da un altro uomo a bordo di un SUV. L'autovettura aveva appena attraversato la circonvallazione quando, svoltando a destra, si stava emettendo per via fiume. Proprio in quel momento l'uomo attraversava la strada. E' finito a terra, ferendosi al naso, perdendo non poco sangue, immediati i primi soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso del nosocomio cittadino. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Non si riesce a capire se l'uomo, quando stava per attraversare la strada, si trovava sulle strisce pedonali o su marcia a piede. Sul caso indagano i carabinieri di Sulmona che sono intervenuti nella zona assieme alla Polizia Municipale per i rilievi di rito. Il tratto stradale che dal Ponte Vella conduce all'incrocio di via Pola è rimasto chiuso al traffico per qualche ora.